Allora, siamo ai piedi del Serro San Bernardo e c'è una scala, una scala insomma, una salita di 1070 scalini, gradini, io ne ho fatti appena 7 e sto a morire visto che ho mangiato un sacco di roba per pranzo, proprio ora, ce la faremo, faremo perché insomma ho mangiato per due, quindi faremo, vedremo dopo.